Sono passati due anni da quando ho fatto il video che diceva che Ubuntu Mate rimane la mia variante di Ubuntu preferita. Ora che siamo arrivati alla versione 24.04, Ubuntu Mate è ancora la mia variante di Ubuntu preferita? Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Bene, vediamo la release nota di Ubuntu Mate. Cosa c'è di nuovo rispetto alla versione 22.04? Abbiamo sempre il brisk menu in alto a sinistra, 4 workspace in basso a destra, le icone sul desktop, lo stesso tema GTK. E' talmente uguale che non ti sei nemmeno reso conto che ti ho fatto uno scarso, perché finora ti ho mostrato la versione 22.04 di due anni fa. Vuoi vedere come è fatta veramente la nuova Ubuntu Mate 24.04? Eccola qua! La prima e unica differenza che salta all'occhio è che il selettore dei quattro workspace è più stretto. Sì, veramente, non c'è altro. Questo perché il desktop Mate stesso non ha nuove release dal 2021. Questo è sia un bene che un male. E' un bene perché il desktop Mate è stabile e maturo e non ha bisogno di aggiornamenti frequenti. E' però anche un male per due ragioni. La prima è che le tecnologie evolvono di continuo, per cui, per esempio, tutti i desktop stanno passando da X11 a Wayland. E Mate, pur non avendo ancora dichiarato nulla ufficialmente, sta lavorando su una sessione Wayland basata sul compositor Wayfire. Oppure, Mate si basa sul toolkit grafico GTK3, la cui ultima release è del 2018. Ricordiamo che GTK è alla versione 4 a partire dal 2020. Per cui, dal punto di vista del toolkit, che succede? Citeremo GTK3 per sempre? Mate non sembra avere piani per utilizzare un toolkit differente da GTK3 al momento. La seconda ragione per cui ho un male è che sono due anni che ho usato lo stesso identico desktop e sto iniziando ad annoiarmi. Ho voglia di una ventata d'aria fresca. Per cui, vediamo se c'è un'altra edizione di Ubuntu che fa per me. Iniziamo col vedere quali sono le mie esigenze per quanto riguarda una variante di Ubuntu. Prima di tutto, deve essere abbastanza differente da Gnome. Questo non perché Gnome non mi piaccia, anzi, ma perché normalmente utilizzo Ubuntu in una macchina virtuale, in una finestra. Ed il mio sistema operativo principale, che fino ad oggi è fedora, utilizza già Gnome. Non so se hai mai provato Gnome virtualizzato in finestra e non a tutto scarmo, ma ti garantisco che non è una bella esperienza. Escludiamo quindi Ubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Unity e Ubuntu Cinnamon. Mi servono quattro desktop virtuali, facilmente selezionabili dal pannello. Bonus se c'è un'anteprima di cosa contengono. A proposito di pannello, il pannello deve essere in alto, perché in basso mi ricorda troppo quell'altro sistema operativo. L'emulatore di terminale deve supportare i tab, e passare facilmente da un tab all'altro con una semplice combinazione di tasti, senza toccare il mouse. Il desktop deve essere piacevole da vedere, e mi rendo conto che questo è un dato soggettivo. Ultimo, ma non per ultimo, ricordiamo che io sono pigro. Non ho voglia di stare a perdere tempo a configurare tutto, quindi meno c'è da configurare per arrivare al risultato zaditerato, meglio è. In teoria, questo escluderebbe già Ubuntu, ma voglio dargli il beneficio del dubbio. Se noti, tutti questi requisiti Ubuntu Mate ce li ha già out of the box, senza bisogno di configurare nulla. E non per niente, per Rami è stata la mia variante di Ubuntu preferita. Iniziamo da Xubuntu, quindi Desktop XFCE. Io sono sempre stato dell'idea che Mate e XFCE non hanno motivo di essere progetti separati, perché utilizzano le stesse tecnologie e danno un look and feel molto simile. Partiamo subito male. Non l'ho registrato nel video, ma al momento dell'installazione avevo detto di accedere automaticamente senza richiedere password, e all'avvio del sistema ha subito crashato la sezione rimandandomi al prompt di login. Un login ed un riavvio non gli sono bastati, per cui crasha costantemente appena acceso. Ma veniamo alle mie esigenze. Gli sviluppatori di Xubuntu non credono nei desktop virtuali, e quindi li devo aggiungere a mano. Tuttavia, l'operazione è semplice, ed il selettore di desktop mostra le anteprime. Ottimo lavoro da parte di XFCE. Pessimo lavoro da parte di Xubuntu, invece, perché il selettore dei quattro desktop sul pannello è una cosa che c'è di default in un'installazione senza personalizzazione di XFCE, e gli sviluppatori di Xubuntu hanno tolto. Il pannello è in alto, quindi bene, ma ancora meglio c'è il whisker menu, che è il menu tra virgolette moderno di XFCE. L'emulatore di terminale supporta i tab, e passa da un tab all'altro con gli stessi tasti utilizzati dagli emulatori di terminale di Gnome e di Mate. Ottimo anche qui. Veniamo al punto piacevole da vedere. Personalmente, trovo Xubuntu un pugno nell'occhio, e i temi installati di default variano da brutto a orribile. Quando ho provato a cambiare sfondo del desktop, ha crashato di nuovo, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Peccato. Xubuntu avrebbe potuto essere un ottimo candidato come sostituto di Ubuntu Mate, ma il suo aspetto orribile, unito alla sua instabilità, fa sì che non lo consiglio a nessuno. Passiamo quindi all'Ubuntu con il desktop LXQT. La prima cosa che noto è che ci sono quattro desktop, numerati da uno a quattro. Quindi niente bonus perché non mostrano l'anteprima delle finestre, ma ottimo comunque che questi quattro desktop ci sono già di default. Il pannello è in basso, ma si può spostare molto facilmente in alto. Il terminale supporta i tab, e la creazione di nuovi tab utilizza la stessa combinazione di tasti degli altri monitori di terminale. Il passaggio da un tab all'altro, purtroppo, non è fattibile con una combinazione di tasti. O meglio, è fattibile, ma ti devi configurare la combinazione di tasti a manina. Una volta configurata, funziona tutto come dovrebbe. Veniamo quindi alla parte del piacevole da vedere. Il desktop LXQT, come dice la parola stessa, utilizza il toolkit grafico QT, quindi si becca dei punti in più da parte mia perché non è fermo a tecnologia del 2018. Lo Sile Breeze è molto bello a mio avviso, quindi non c'è bisogno di configurare termini alternativi. La selezione di sfondi del desktop è anche ottima. Dove non si becca dei punti è la mia pigrizia. Cioè, l'Ubuntu mi ha veramente sorpreso positivamente, soddisfa quasi tutte le mie esigenze, ma per arrivarci occorre perdere un po' di tempo a configurare le varie cose. Sai che ti dico? La metto un gradino nel di sotto di Ubuntu Mate, ma sicuramente utilizzarò l'Ubuntu su alcune mie macchine virtuali. Diamo il beneficio del dubbio a Kubuntu. Personalmente mi piaceva KDE versione 1 negli anni 90, ma da quando è uscito Gnome l'ho sempre preferito a KDE. Ho trovato le versioni 2, 3 e 4 di KDE veramente poco piacevoli da utilizzare, e come filosofia io sono molto più in linea con Gnome, dove sei produttivo sin da subito senza bisogno di configurare niente. KDE invece è famoso per avere 400.000 opzioni di configurazione, e come detto poc'anzi io sono pigro e non ho voglia di perdere tempo a configurare le cose. Kubuntu 24.04 utilizza KDE Plasma 5 e non la nuova versione 6, ma questo è comprensibile perché si tratta di una versione LTS, e KDE Plasma 6 è uscito troppo di recente. Poco male, perché non ho mai utilizzato KDE Plasma 5, quindi vediamo se soddisfa le mie esigenze. Noto sin da subito che non ci sono desktop virtuali, e non so se questa è una scelta di KDE oppure di Kubuntu. Fatto sta che non è difficile aggiungere 4 desktop, ed appena aggiunti compaiono nel pannello con tanto di anteprima. Molto bene. Il pannello è in basso, ed in più è enorme. Tuttavia è facile sia da spostare che da ridimensionare. Il terminale supporta i tab, e la creazione di tab ed il passaggio da un tab all'altro è fatta con la combinazione di tasti che conosciamo bene, senza bisogno di configurare nulla. Ottimo! Kubuntu è già piacevole da vedere di suo, ed essendo KDE offre fin troppe possibilità di personalizzazione. La selezione di sfondi è molto buona, anche se non ha l'altezza di Ubuntu Mate o Ubuntu, a mio avviso. Arriviamo alla sezione pigrizia. Sono sorpreso di quanto poco abbia dovuto cambiare per avere un desktop che soddisfi le mie esigenze. Ho dovuto cambiare anche meno impostazioni che sull'Ubuntu. Ok, Kubuntu spiazzò l'Ubuntu come mia seconda variante di Ubuntu preferita, e non me lo sarei mai aspettato. Concludendo, torniamo alla domanda fatta a inizio video. Ubuntu Mate è ancora la mia variante di Ubuntu preferita? La risposta è sì, ma non la userò più ovunque come ho fatto per la 22.04. E questo non perché ci sia nulla di sbagliato in Ubuntu Mate, ma solo perché il desktop Mate e le personalizzazioni di Ubuntu Mate sono rimaste invariate in questi due anni. Quindi, per una ventata di freschezza, utilizzerò anche Kubuntu, che non mi sarei mai aspettato che mi piacesse così tanto. Degna di nota è anche l'Ubuntu, che se non fosse stato per Kubuntu, avrei utilizzato per spezzare la noia del desktop Mate. Bocciata, invece, su Ubuntu, perché è troppo brutta esteticamente e troppo instabile. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odissi. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! La prima è che le... Wow. Quindi niente bonus perché non mostrano... La risposta è sì, ma non lo userò più ovunque come ho fatto per... Bello.